I kiwi sono un vero e proprio frutto della salute. In 100 g di prodotto ci sono soltanto 48 calorie totali, ma almeno 400 mg di potassio, 0.5 mg di ferro e ben 85 mg di vitamina C se desideri più regolarità due kiwi assunti di mattina sono più che sufficienti. Mangiare avocado aiuta a regolare la pressione sanguigna, per l'alto contenuto di magnesio e potassio, l'equivalente di 2 a 3 banane, e di grassi monoi saturi che aiutano a ridurre i livelli di colesterolo. L'avocado svolge un'azione di blocco sulla fame perché favorisce la sensazione di sazietà. Le banane sono un'importante risorsa di buon umore, grazie al contenuto di dopamina, ormone della felicità. La dopamina insieme alle vitamine del gruppo B favoriscono un apporto benefico al sistema nervoso. Dalla papaya spabaina, un enzima proteolitico che favorisce la digestione delle proteine e la rende quindi perfetta per chi soffre di gastrite o problemi digestivi, è consigliabile mangiarla prima dei pasti per introdurre subito gli enzimi necessari. L'ananas, come detto prima, è un frutto ricco di vitamine, sali minerali, fibra, aiuta il sistema. Immunitario, è ricco di antiossidanti come la vitamina C ed è un frutto depurativo il mango avanta proprietà diuretiche e lassative, è quindi utile in caso di stitichezza e di ritenzione idrica. È, inoltre, un alimento indicato contro lo stress e come ricostituente naturale. Anche un gatto lo sa. La polpa dei frutti di tamarindo è da sempre impiegata nella medicina popolare come rimedio per contrastare la costipazione, sia acuta che cronica, e per il trattamento dei disturbi di cistifele e fegato. Ideale per gli sportivi, la noce di cocco ha proprietà energetiche e tonificanti, rifornisce i minerali che vengono persi con la sudorazione. Inoltre, contribuisce a migliorare i livelli di colesterolo e facilitare la perdita di peso. Molte delle proprietà del lime derivano dagli antiossidanti di cui è ricco, vitamina C, vitamine E, polifenoli e terpeni che proteggono il cuore, riducono il colesterolo e i trigliceridi. I dateri rappresentano un'ottima fonte di potassio e in generale. Sono molto ricchi di sali minerali. Questo frutto del quale esistono diverse varietà, dai sapori differenti, è molto ricco d'acqua, possiede una buona quantità di fibra e numerosi sali minerali, via. La maracuia, grazie alla presenza di beta-carotene e di bioflavonoidi, possiede proprietà antiossidanti ed antinfiammatorie, e la sua assunzione protegge la pelle dagli agenti atmosferici e combatte i radicali liberi. Sembra quindi che abbia un effetto preventivo sui tumori, le malattie cardiache e l'invecchiamento La presenza di calcio, ferro e manganese rende il kumquat un alimento fondamentale per il rafforzamento delle ossa e del sistema immunitario.